L'annunciata perturbazione nevosa dell'Epifania è arrivata e si sta battendo sull'area vestina già dalle prime ore del pomeriggio di ieri, con nevicate consistenti, vento forte, anche se il pericolo principale però resta il ghiaccio. Nei principali comuni dell'area la situazione è sotto controllo, grazie anche alla tempestiva apertura dei coc per la segnalazione delle varie problematiche. L'accumulo più rilevante si regista nel comune di Farindola, dove la coltre bianca si aggira sui 40 cm. A Penne si lavora incessantemente dalle ore 15 di ieri per liberare le zone e le vie di accesso che portano allo soccomio vestino, grazie al costante aiuto della protezione civile, Croce Rossa e Soccorso Alpino. Sono rimaste senza corrente le contrade di Colle Stella, Colle Maggio e invece restano isolate alcune abitazioni nella contrada di Roccafina d'Amo, dove si è abbattuta una vera e propria bufera di neve. Le previsioni danno neve anche nelle prossime ore, con temperature bassissime e quindi inevitabile formazione di ghiaccio e per questo la provincia, che sta costantemente monitorando la zona, e lavorando per pulire le principali arterie con mezzi spazzaneve e spargisale, sconsiglia di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.